ciao sono Jill Cooper benvenuti al mio booty camp si booty perché booty vuol dire lato B in inglese allora booty camp anziché boot camp è dedicato interamente al vostro lato B ok così facciamo 30 giorni di allenamenti 30 giorni di video dedicato proprio a innalzare il nostro lato B farlo rassodare farlo tonificare farlo riempire perché qual è il problema dopo 40 45 anni si svuota e quando ti guardi lateralmente vedi piatto brutto e di conseguenza questa booty camp dedicato a tutti voi le mie amiche di youtube mi raccomando se vi piace questo video condivideteli e create il vostro personale playlist e non dimenticate di iscrivervi su instagram mio instagram che è Jill Cooper super jump e così share the love e vi aspetto qui proprio sul mio canale per farvi allenare lo salato B l'altra cosa vi servirà un elastico per i diversi esercizi di questo allenamento vi chiede l'utilizzo di questo intelligentissimo attrezzo genico ossia un elastico lo potete trovare sul mio sito www.coldsport.com o altrimenti in grande distribuzione in un negozio di sport qualunque più o meno sto utilizzando quello di 0,5 mm di spessore per avere assolutamente la massa del mio allenamento così vi mi raccomando allenatevi con la Jill 30 giorni scattate le foto prima e dopo così vedrete la trasformazione del vostro gluteo e poi condividete le vostre foto prima e dopo con me ok scrivendomi a infochiocciolacosport.com perché ci tengo voglio vedere il vostro miglioramenti ok allora cominciamo subito con il nostro primo giorno di booty camp ciao